Buongiorno a Mazzino, la Rocca! Grazie! Oh, faccio il regalo! Grazie! Grazie! Buongiorno a Mazzino! 80 incontri, 74... 80 incontri, 74 metà e 53 per cantare, invece 59 locali. E qui che vede anche correggere, no? Scusate, buona serata a voi, buon anno e tutta salute! Grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi che sono un vero italiano! Grazie! Buona vista, diciamo, dando un anno a tanti giorni che vogliono potere il nostro sport. In quel momento io lo faccio il maestro afficcinato, ma devo uscire un campione del mondo, se lo speriamo, che arriva un campione. Però, purtroppo, questa giovedì con il maestro sono l'azistante. Molto, 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 molto. Tu mi hai guardato qui. No, 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 ragazzi. Non è un uomo, io posso dire tutto però a sportivo. Sarà un ragazzo, un ragazzo che mi ha allenato per un anno. A un certo punto mi dice, io guarda, la palestra è lontana. e dopo l'ho detto ma scusami io vengo dell'Africa le multasci io vengo qua e sono arrivato e non te l'ho sentito io arrivato a Pugliela e Tempile Pertini arrivato a mangi su Square Garden due volte due volte a mangi su Square Garden al Cesar Palos, Las Vegas Sottocloni Malabinagro, Sugar Leonard, Thomas Hems bravo Nino grazie Nino e la Rocca grazie Nino stiamo aspettando e Emiliano non c'è?